E' stata presentata in conferenza stampa l'edizione 2023 della Settimana Europea della Mobilità, un ricco programma di eventi che dal 16 al 22 settembre coinvolgerà scuole, enti, associazioni e semplici cittadini sul tema della sostenibilità nei trasporti. Per la seconda volta l'amministrazione Melucci, con la fondamentale collaborazione della società partecipata a Chima Mobilità, aderisce alla piattaforma europea di questa manifestazione che in tanti territori sta sensibilizzando le comunità rispetto alle alternative disponibili alla necessità di alleggerire i centri urbani dal peso dei troppi mezzi in circolazione. Partiremo sabato mattina con l'inaugurazione del nuovo terminal di Parco Cimino e del parker ride di Cimino. La settimana prossima saremo a Porta Napoli per verificare l'avvio anche del parker ride di Porta Napoli, quindi è una settimana europea che si attiva con azioni concrete che ricadranno direttamente sulla vita dei nostri concittadini. Poi abbiamo scelto di lanciare una serie di messaggi sulla sostenibilità, non essere il traffico, e guida il cambiamento. È un'idea di alcuni dei claim che abbiamo lanciato e che lanceremo a partire dalla settimana europea della mobilità sostenibile anche ai prossimi mesi. Noi abbiamo raggruppato nel mese di settembre tutti quelli che sono le innovazioni e le presentazioni che concernono a 360 gradi la sostenibilità. Come iniziare meglio di così la settimana europea della mobilità sostenibile con questi autobus ibridi che li vedete per le nostre strade e rientra nel progetto dell'amministrazione comunale quello di ampliare quello che è il concetto di sostenibilità a 360 gradi, quindi non solo invogliare attraverso questi autobus nuovi il ripristino delle palline e delle pensiline di fermata i nostri cittadini a utilizzare il mezzo pubblico, ma anche agevolarli attraverso quelle che sono le strumentazioni tecnologiche che facilitano l'accesso al mezzo pubblico stesso.